Cerchi forti emozioni, nuovo molinello Exceed di Trabucco, full metal body, max drag 30 kg, 10 più 1 cuscinetti in acciaio inox schermati, corpo e frizione interamente sigillati, meccaniche e pignone in acciaio inox, frizione con dischi in acciaio e carbonio, protetto contro la salsedine, Exceed, eleganza e tecnica si incontrano dando vita ad un molinello all'avanguardia. Trabucco Exceed, nessun compromesso.